Non c'era anche una nuova? Ti giuro che quando arriva la rovino. Sto cercando a pensarlo su. È lui e ora ti rovina. Buone vacanze, amore mio! I genitori giù dal treno! Vale! Voglio andare via! Portasemi a casa! No! Scusami, sai se ci sono più vivi o più morti sulla Terra? Non ci ho mai pensato, ma se vuoi mi posso informare. Mi fa venire l'emorroide con tutte le sue domande assurde. E mi ha chiesto se ero nero dalla nascita. Tu mi piaci, vorrei mettermi con te. Senti, ci devo pensare. Quando parli dell'Europa unitaria e del modello socialista, non puoi paragonare i modelli socialdemocratici scandinavi e il loro welfare state. Welfare che? Dall'inizio della colonia sei lì e non ti vediamo. Sei trasparente. Scusate. Smettila di scusarti, Dio essere educata, che palle! Ma sai che ti dico? Sei il re degli stronzi? Nel paese ha dei pazzi di merda. Grande movimento ieri sera. Sì. Quello del maneggio l'ho montata tutta la notte. È impazzita come la maionese. Ah, che classe. Ti eccita a giocare al capo tribù? E a te fumare con dei ragazzini di 13 anni sembra normale? Fumavano anche prima di conoscermi. Questi ragazzi sono in vacanza, non in carcere. Monique Vagnet è il mio collega dell'ispezione sanitaria. Daniel, alzati! Deve brillare tutto, i cesti, le docce, tutto! Scusate, è la cucina questa, no? Oh, scusate, ma che cos'è una colonia ore? Scusate, mi guarda gli siti! Scusate, mi guarda gli siti! Nickale, mi guarda gli 3 signedorni di parta туда. Che cosa, 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 cosa. Che cosa, cosa, quello. Pi… health look! Ciò che si tratta là un'uomo del controllo. Grazie a tutti